5, 6, 7, 8, tutti dobbiamo sentirci amati perché il Padre ci ama, amè? Ok, possiamo accendere le luci, vogliamo dare un benvenuto nel mondo terreno, che siamo stati irrapiti, almeno io mi sono sentito irrapito, non so tu. Vogliamo dare un benvenuto a tutte le persone che questa sera si trovano qua per la prima volta, se per favore tutte le persone nuove che siete qua per la prima volta potete alzare la mano, vogliamo darvi soltanto un benvenuto, per favore potete alzarvi un attimo in piedi, un attimo soltanto, non vi vergognate, siamo in famiglia, benvenuti in mezzo a noi, Dio vi benedica, benvenuti, sentitevi a casa, sentitevi in famiglia perché noi siamo una famiglia, potete accomodarvi, Dio è buono e la sua benignità dura in eterno, io potrei andare a casa, sono già completo, ho sentito la meravigliosa presenza del Padre, c'è un'atmosfera, non so se riuscite a percepirla, questa atmosfera di pace. Un giorno c'erano discepoli che lasciavano Gesù, arrivando a un certo punto Gesù disse ai Suoi dodici, volete andarvene anche voi? I discepoli gli hanno detto, maestro da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita. Mentre stavamo adorando ho ricevuto una parola che voglio condividere, e lo Spirito Santo mi faceva sentire, mi faceva vedere così. Non puoi permetterti sia al singolare che come Chiesa di fermarti perché la parola di Dio sta correndo. Sentivo proprio questo da parte dello Spirito Santo, vedevo che la parola correva, quasi diramava in modo a noi sconosciuti per arrivare alla vita delle persone, e sentivo questo che come credenti, come Chiesa, dobbiamo prepararci perché la parola sta correndo, sta raggiungendo la vita di tante persone, e di conseguenza potrà accadere da un giorno all'altro, da domenica all'altro, che ci saranno migliaia e migliaia di persone, perché noi non possiamo fermare la parola. La parola è stata rilasciata. Noi siamo qua sul territorio dal 2007, siamo arrivati il 26 ottobre del 2007. Qua in Friuli abbiamo messo piede, ovvero abbiamo messo piede prima, ma poi quando ci siamo stabiliti nel Friuli, era il 26 ottobre del 2007. Già agli inizi del 2008 avevamo iniziato a seminare la parola di Dio. E abbiamo distribuito, circa noi, solo io e mia moglie, avevamo distribuito allora dai 25 ai 30 mila volantini, lasciati per le case, per le poste, date mano alle persone. Abbiamo evangelizzato in diversi modi, e la parola, lo Spirito Santo mi faceva sentire questo, la parola di Dio non è ferma, ma corre. Ricordo la prima persona che ci ha contattato dopo aver fatto evangelizzazione, seminato dei volantini nelle bucalettere, dando a mano nei mercati, alle persone che incontravamo. Ricordo la prima persona che ha chiamato, ha chiamato dopo sei mesi, che facevamo volantinaggio. Ma in questi sei mesi non abbiamo, non ci siamo mai fermati di seminare la parola di Dio. Senza vedere frutto. Ma la parola di Dio stava correndo. Un bel giorno, ricordo che mi chiama una signora, dicendo che aveva bisogno di parlare, aveva bisogno di aiuto, perché aveva trovato questo volantino, l'aveva messo in una rivista, aveva conservato la rivista, non trovava più questo volantino, si era dimenticato che questo volantino era stato conservato dentro una rivista, e un giorno prende quella rivista, va per sfogliare quella rivista, e trova quel volantino e chiama. E attraverso quella persona è partita un'opera. La parola iniziò a correre. La parola iniziò ad estendersi nel territorio. Credo che questo... Dobbiamo stare attenti, perché quando la parola inizia a correre è un pericolo. Contaggia la vita delle persone. Accadono miracoli, accadono segni, accadono prodigi, senza che noi ce ne rendiamo conto. Ma quando la parola di Dio viene rilasciata, la parola di Dio corre, credo che in questo tempo la parola di Dio sta correndo. sta toccando la vita di tante persone, sta toccando tanti matrimoni, sta toccando tante persone, tanti giovani, sta toccando tante persone anziane. Noi crediamo che la parola di Dio sta correndo ed è arrivata dentro il carcere, è arrivata dentro gli ospedali, è arrivata dentro le scuole. La parola di Dio sta correndo e credo che la parola di Dio è potenza, tocca la vita delle persone, cambia la vita delle persone. E io credo che questo è il tempo dove vedremo il soprannaturale manifestarsi. E la prima opera soprannaturale è il cuore delle persone cambiate, ovvero che le persone ricevono Cristo nella loro vita come personale Signore e Salvatore. E quando le persone hanno ricevuto Cristo nella loro vita come personale Signore e Salvatore, è la cosa più bella che possa esistere. E non è un cancro, dice, un miracolo è successo, un cancro è stato guarito. No, il miracolo più grande per l'umanità è ricevere Cristo Gesù nel proprio cuore. Perché quando entra la luce le tenebre non devono stare in quel corpo. O c'è Gesù o ci sono le tenebre. O c'è l'uno o c'è l'altro. E così dobbiamo consapabilizzare che quando Gesù entra nella nostra vita e noi viviamo una vita santa, le tenebre, l'oscurità, le malattie, le infermità, la povertà non deve restare dove c'è Cristo Gesù. Ovunque arrivava Cristo Gesù dentro le case, arrivò a casa da Zaccheo, Gesù e cambiò il cuore di Zaccheo, cambiò l'atmosfera a casa sua. Dovunque arriva Gesù cambia. Per questo è importante che consapabilizziamo che quando Gesù è entrato nella nostra vita qualcosa di soprannaturale dentro di noi è accaduta. E quindi se tu hai una malattia, un'infermità, tu non devi credere che la malattia è il tuo Signore, ma che Gesù è il tuo Signore e laddove c'è Gesù la malattia non è legale. Quello che è legale di risiedere nel cuore di ogni persona, nella vita di ogni persona, è Cristo Gesù perché Lui è entrato con legalità. Cosa significa entrare con legalità? Quando tu dici a Gesù, Gesù io ti ricevo nella mia vita come mio Signore, come mio Salvatore, stai permettendo a Gesù di entrare con legalità nella tua vita, ma il diavolo viene in modo illegale per entrare nella vita delle persone. A tua insaputa o a insaputa delle persone lui mette malattia, mette infermità, mette povertà, mette divorzio, mette separazione, mette morte e Lui è legale. Così quando Gesù è entrato nella tua vita, è entrato con legalità e il diavolo non ha motivo di stare laddove c'è Gesù perché è entrato con legalità. Lui non entra come un ladro perché la Bibbia dice se tu credi che il tuo cuore e con la tua bocca fai confessione di fede, tu sarai salvato. Così noi perché facciamo fare la preghiera di salvezza alle persone? Perché noi dichiariamo con la nostra bocca, diciamo Gesù, io credo in te, in quello che tu hai fatto e ti ricevo nella mia vita e quindi quando tu ricevi Gesù nel tuo cuore Lui entra con legalità ma tu non dici al diavolo portami una malattia. A volte nell'ignoranza abbiamo fatto dichiarazioni negative ma nel momento in cui entra Gesù nella vita di ogni persona tu stai permettendo in piena coscienza, in piena legalità che entra Gesù nella tua vita e le tenebre non hanno motivo di stare nella tua vita. Così devi iniziare a cambiare il tuo modo di pensare, il tuo modo di ragionare e se c'è Gesù nella tua vita tu devi dire alla tua infermità, al tuo problema, alla tua malattia, quello che sia, carestia, povertà, mancanza di denaro, mancanza di lavoro, tutto questo è illegalità perché Gesù la Bibbia dice che venne per dare il pane ai figlioli. Alla Cananea Gesù disse non è bene prendere del pane e darle ai cagnoli ma il pane è per i figlioli, la prosperità, la benedizione è per i figli di Dio. Quindi devi fare dichiarazioni, io Cristo Gesù e l'illegalità in me non ha niente a che fare. Malattia, qual è il tuo problema? Tu devi fare dichiarazioni di fede, se hai un problema di malattia devi dire nel nome di Gesù la chiami per nome, secondo quello che ti hanno diagnosticato che lo Spirito Santo ti rivela, devi dire ti ordino di lasciare il mio corpo, la mia vita ora. Se hai un problema nel tuo matrimonio devi dire ora nel nome di Gesù, spiriti di litigi, di separazione, di contesa, di divorzio, io ti comando nel nome di Gesù di lasciare la mia vita, la mia mente, la mia casa, il mio matrimonio nel nome del Signore Gesù Cristo anche se tuo marito o tua moglie non ci crede ma tu sei legale, tu puoi andare davanti alla presenza di Dio e la Bibbia dice che Gesù Cristo ha dato l'autorità di calpestare serpenti, scorpione e tutta la potenza del maligno e nulla potrà farti del male. Se Cristo è entrato con la legalità è Cristo che ha la legalità nel tuo corpo. Tutte le altre cose sono illegali. Amen? Amen. Wow, mezza predicazione ho fatto già. No, no, ma c'è una bellissima predicazione questa sera. Meravigliosa. Fai così. Wow. Ok. Fratello Dittimir viene a pregare per l'offerta. Vogliamo mettere la gloria. Alleluia. Mentre ci alziamo in piedi riflettiamo a quello che diceva l'Apostolo Giovanni diceva in Prima Giovanni 4 dice Dio noi sappiamo amare perché Dio ci ha amati per primo. Allora questo principio possiamo applicarlo anche nel dare. noi sappiamo dare perché Lui ha dato per primo e noi mentre chiudiamo gli occhi questa sera e prendiamo la nostra offerta la nostra decima la nostra primizia e la consacriamo questa sera a Te Padre dichiareando Signore sopra queste offerte queste decime queste primizie Signore moltiplicazioni vogliamo pregare Spirito Santo che queste possano essere Signore un principio un principio Signore di scuole un principio di asilo un principio Signore di posti che serviranno per l'avanzamento del Tuo Regno e vogliamo Signore anche benedire la vita delle persone che hanno il cuore di dare ma le finanze Signore scarseggia vogliamo Signore presentarti queste persone e benedirle Signore in modo che loro possano iniziare a dare Signore anche a Te avere la gioia Signore di dare nel nome del Signore Gesù Amen con te con te posso fare tutto niente di fuggire perché forza Tu mi dai niente impossibile con te i ciechi vedono fortezze cadono perché fede abbiamo in te niente impossibile per ciò che vedo non vivrò per ciò che sento non vivrò perché so che tu sei qui con me e so che puoi fare tutto Dio con te posso fare tutto niente è difficile perché forza Tu mi dai niente impossibile con te i ciechi vedono fortezze cadono perché che fede abbiamo in te niente è impossibile alleluia ok padre e signora ti vogliamo ringraziare questa sera per la parola che tu continuerai a seminare nel nostro cuore sappiamo che porterà abbondante frutto per l'avanzamento del tuo regno ti chiedo unzione nella mia bocca per poter predicare con franchezza la tua parola ti chiedo di ungere le nostre recchie spirito santo perché con attenzione con sapienza con intelligenza divina signore possiamo ascoltare la tua parola per trarne frutto nella nostra vita e portare frutto nel nome potente del signore Gesù amen amen e amen ok lo spirito santo questa mattina mi aveva dato una parola recupera parte della tua scure cos'è la scure è un'ascia si può chiamare scure oppure ascia ma per attenerci ovvero la parola che avevo ricevuto questa mattina era una recupera la tua ascia ma siccome nella Bibbia c'è scritto scure noi ci atteniamo alla parola per essere più nel contesto leggiamo nel libro di seconda re dice al versetto uno dice seconda re capitolo 6 versetto 1 dice i discepoli dei profeti dissero ad Eliseo ecco il luogo nel quale noi abitiamo con te è troppo piccolo per noi lasciaci andare fino al Giordano là ciascuno di noi prenderà una trave e là ci faremo un luogo per abitarvi Eliseo rispose andate e uno di loro disse ti prego degnati di venire con i tuoi servi e gli rispose verrò così egli andò con loro così Eliseo aveva una scuola di discepoli che stavano discepolando stavano con loro e alcuni sapete per frequentare una scuola dovevano fare dei debiti qualcuno sapete c'è quella storia di quella vedova che gli era morto il marito e il marito gli aveva lasciato dei debiti e stavano venendo i creditori a prendere i suoi figli per farli schiavi c'erano alcuni che si indebitavano per fare questa scuola insomma per partecipare alla scuola dei profeti si dovevano spostare dovevano lasciare la città dovevano lasciare le proprie case e e quindi attraversavano difficoltà il luogo dove erano loro stavano stretti e io credo che il luogo dove stiamo sta diventando stretto amèn così dice passiamo dall'altro lato andiamo all'altro lato del Giordano dice là ciascuno di noi dillo ciascuno di noi prenderà una trave e là faremo un luogo per abitarvi quindi ciascuno di noi andremo al di là del Giordano e prenderemo ciascuno di noi una trave e là faremo un luogo dove abitare poter abitare e Eliseo disse sì verrò con voi così andò con loro e giunti al Giordano si misero a tagliare alcuni alberi dice mentre una batteva un tronco il ferro della scure gli cadde nell'acqua ed egli si mise a gridare e disse ah mio signore questo l'avevo preso in prestito l'uomo di Dio domandò dove è caduto egli indicò a lui il posto allora Eliseo tagliò un pezzo di legno lo gettò in quel punto e fece venire a galla il ferro poi disse prendilo così egli stese la mano e lo prese allora oggi riflettevo su queste cose intanto inizio a scendere e riflettevo su alcune cose mi ero messo nel mio ufficio quantomeno ci ho pregato a mettermi in ufficio per meditare e osservavo nella parola di Dio alcuni passaggi la prima cosa che quando a questo servo gli è caduto lascia nell'acqua si mise a gridare e gridò a chi gridò gridò all'uomo di Dio e gli si mise a gridare e disse a mio signore questo l'avevo preso in prestito non era suo e quindi glielo avevano prestato non aveva sicuramente le possibilità per poterlo comprare per poterlo restituire ed era un grande problema è riflettevo nella nostra vita che tante volte noi allora per chi è un come si chiama un boscaiolo sa che l'asciuro l'ascia ogni tanto deve essere come dire manutenzionata perché il legno è vivo non è come il ferro il legno si muove in continuazione c'è l'umidità si gonfia c'è il sole si restringe e qui man mano che lavora ovviamente il legno si va rovinando e di conseguenza se vedete se mi togliete la scritta così la vediamo meglio vedete che il legno il manico intanto nasce non si l'asciuro non si usa con una mano soltanto va bene bensì con due mani è lungo e se vedete da questa parte qua dove viene messo il pezzo di ferro viene lavorato perché il ferro che ha un buco venga incastrato bene ogni tanto il boscaiolo dopo aver lavorato con l'asciure cosa deve fare deve manutenzionarlo ovvero deve controllare o deve mettere dei cunei di ferro di legno in punta in modo tale che si estende il legno e che sia ben come dire agganciato ben affermato il pezzo di ferro e così tante volte nella nostra vita sapete nella nostra vita a volte noi non ci fermiamo e facciamo manutenzione non so se riuscite a comprendere a volte noi non ci fermiamo a dire ma io sto portando sto lavorando sto portando frutto per il signore dove l'ho messo sto portando frutto e ogni tanto non ci fermiamo per constatare se realmente siamo agganciati alla parola se siamo ben saldi con la parola e quindi se siamo ben fermi con la parola allora è importante che ciascuno di noi ogni tanto si possa fermare e possa dire ma io sono agganciato con la parola io sono stabile io sono ben fermo nella parola o sto vacillando io facevo ho iniziato a fare il muratore ho fatto anche il carpentiere avevamo un martello abbiamo qua un fratello che è un artigiano adesso ci sono i martelli col manico di gomma o un tipo di gomma un tipo di plastica che sono ben serrati ma prima c'erano i manici nei martelli che erano di legno e ogni tanto si doveva fare al contrario come dire si doveva serrare il martello nel manico per essere ben fermo se non era ben affermato ovviamente c'era il rischio che il martello volava andava in testa qualcuno e qualche volta in cantiere è successo o andava a rompere qualcosa o dipende dove facevi i lavori te lo davi nella fronte succedeva di tutto chi ha lavorato in un cantiere edile sa di queste cose ogni tanto bisogna affermarsi mentre stai battendo ti scappa nel dito nella mano succedeva di tutto allora così tante volte anche nella nostra vita dobbiamo stare attenti man mano che lavoriamo nell'opera del Signore se siamo ben saldi perché a volte può succedere che ci stanchiamo ci secchiamo no e quindi cosa fa il legno si secca e rischia di perdere l'asciore è importante che ciascuno di noi ogni tanto ci fermiamo in questo ma non è il mio messaggio questo quindi egli si mise a gridare all'uomo di Dio e gli disse mio signore questo l'avevo preso in prestito e l'uomo di Dio comandò dove è caduto e mi sono preso degli appunti questa mattina anzi oggi pomeriggio mentre ero a letto mentre qualche fratello mi chiamava e mi mandava messaggi dove è caduto così io ti voglio porre tre domande questa sera dove sono caduti i tuoi sogni dove ti sei smarrito e dove sei affondato perché a tutti noi è successo che mentre stiamo servendo il Signore stiamo lavorando a volte vediamo abbiamo dei sogni ma arrivando a un certo punto perdiamo questi sogni scappano dalla nostra vita ci avete fatto caso? dice ma come mai avevo un sogno speravo tanto ma l'avevo dato Dio era una parola una profezia una parola di conoscenza un sogno che ha avuto il fratello mi ha parlato mia suocera mi ha parlato mio suocero mi ha parlato il pastore l'apostolo il profeta l'evangelista mi hanno parlato come mai questo sogno non si è avverato e a volte l'abbiamo perso oppure è successo che durante il cammino non ci siamo fermati ogni tanto e ci siamo smarriti è successo a qualcuno di voi di smarrirsi ogni tanto di perdere un po' di vista è successo e poi dove sei affondato la Bibbia dice che alcuni hanno fatto un naufragio nella fede allora Dio questa sera lo Spirito Santo questa sera ti vuole far venire fuori da dove sei affondato e cosa fece Eliseo gli disse a quel servo ti ricordi dove è il posto così io voglio porti ancora due domande in che occasione ti sei perso ti ricordi il posto dove sei affondato o ti sei perso o hai lasciato il tuo sogno o hai abbandonato il tuo sogno o la tua chiamata e poi l'altro è in quale circostanza ti ricordi in quale circostanza sei stato bloccato paralizzato sei affondato vi ricordate di quella parola che quando Elia scappò da una parola che Jezebel gli disse aveva fatto grandi miracoli aveva preso Elia sul monte Carmelo dodici pietre l'aveva messo insieme aveva messo l'altorello aveva messo l'acqua nella conca aveva sistemato tutto e poi disse signore ti prego dimostra che tu sei Dio e la Bibbia dice che fuoco cadde dal cielo bruciò l'olocausto bruciò l'acqua le pietre la legna tutto quanto e poi scannò tutti i profeti di Baal a questo episodio quando Jezebel la moglie di Acabe venne a sapere che Elia aveva fatto tutto questo che aveva scannato tutti i 450 profeti di Baal cosa disse domani tu farai la stessa fine ed Elia cosa fece ad una minaccia se ne scappò la prima cosa se ne andò nel deserto e Dio lo visitò prima gli diede da mangiare gli fece prendere forza e poi ha detto Elia cosa fai qua e poi gli ha detto ritorna rifa la strada e quindi è dovuto tornare indietro così la parola che ti voglio dire ti ricordi in che occasione ti sei smarrito forse un fratello ti ha accusato ingiustamente forse avevi un sogno aspettavi che arrivavi in chiesa il pastore portava una parola e il pastore ha predicato tutt'altro forse la sorella ti ha detto una cosa e poi l'ha mantenuta forse hai fatto una preghiera e pensavi che era come dire all'orlo di ricevere l'esaudimento di quella preghiera ma poi non l'ha ricevuto e ti sei fermato forse una delusione ti ricordi dove è caduta l'ascia dove è caduto il tuo sogno ti ricordi dove è caduta la tua visione o in quale circostanza ti sei bloccato perché ricollegandoci a quello che avevo ricevuto mentre stavamo lodando la parola di Dio sta correndo e tu ed io siamo andati a finire in fondo all'acqua cosa è successo dove abbiamo perso il nostro sogno dove è andata a finire l'entusiasmo iniziale che avevamo dove è andata a finire la visione che abbiamo ricevuto dove è andata a finire la passione per Gesù dove è andata a finire la passione per il tuo matrimonio dove è andata a finire la passione per il servizio dove è andata a finire la passione di portare l'Evangelo. In quale punto è caduto questo sogno, questa passione, questo desiderio? Perché come Dio disse ad Elia, ritorna, rifa la strada e quindi riparti nuovamente da dove sei scappato, Dio ci riporta sempre allo stesso identico punto. Ed Eliseo fece qualcosa di soprannaturale. La sciura è caduta in fondo al mare, alla fiume, lui gridò, gridò all'uomo di Dio e disse c'era un grande problema. Eliseo si accostò e gli ha detto ti ricordi il posto dove è caduto? Eliseo fece qualcosa di soprannaturale. Io credo che Dio nella nostra vita voglia fare qualcosa di soprannaturale, qualcosa che secondo la legge della natura o della fisica non è possibile che accada. Cosa fece Eliseo? Tagliò un pezzo di legno, lo gettò dove? In quel punto dove era caduta l'ascia. Gli ha dovuto indicare dove ti è caduto, in quale punto ti è caduto. E cosa fece Eliseo? Qualcosa che se voi fate la prova andate in un fiume, fate cadere un pezzo di ferro pieno, lo fate cadere in fondo al fiume, poi prendete un pezzo di legno, ti assicuro che umanamente parlando non viene su. Ma quello che è impossibile per l'uomo, la Bibbia dice che è possibile per Dio. Allora, visto che noi non siamo uomini normali o donne normali, come tutti gli altri, ma siamo figli di Dio, nati di nuovo, con la natura di Dio, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo Cristo Gesù nel nostro cuore. La Bibbia dice che quello che Gesù fece lo possiamo fare anche noi. Non l'ho inventato io questo versetto, è quello che dice la parola di Dio. Quello che ha fatto il profeta Eliseo lo possiamo fare anche noi, quello che fece Lìa lo possiamo fare anche noi. Quello che fece Paolo lo possiamo fare anche noi, quello che fece Pietro lo possiamo fare anche noi, quello che fece Stefano lo possiamo fare anche noi. Noi non possiamo fare quello che fecero quelli che abbandonarono la chiamata. Noi a costo di qualsiasi cosa dobbiamo portare avanti l'opera di Dio e la chiamata di Dio. Alcuni, l'Apostolo parla che l'hanno abbandonato, l'hanno lasciato, l'hanno tradito, ma noi siamo di quella stirpeletta, un regale sacerdozio dice la parola di Dio, una gente santa che non si tira indietro. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel punto e fece venire a galla il ferro. Prima cosa, cosa fece il cieco di Gerico? Vi ricordate due mercoledì fa quando abbiamo predicato il Signore ci ha parlato sul cieco di Gerico? Vi ricordate? Vi ricordate dei dieci lebrosi? Vi ricordate della Cananea cosa fece quando si presentò da Gesù? Gridò. Allora quello che lo Spirito Santo ti vuole dire, quello che sentivo dentro di me questa mattina è che tu devi gridare al tuo miracolo. A volte noi piangiamo al nostro miracolo, dice Signore se tu vuoi fai questo, ti prego. Se tu vuoi fallo. Non tu devi iniziare a gridare. Dov'è che hai perso l'ascia? Dov'è che hai perso il tuo sogno? Dov'è che ti sei fermato? Dov'è che hai perso la tua visione? Dov'è che hai perso l'entusiasmo per l'Evangelo? Dov'è che hai perso l'entusiasmo per il servizio? Dov'è che hai perso l'entusiasmo per il tuo matrimonio? Dov'è che hai perso l'entusiasmo per gli studi? Dov'è che hai perso l'entusiasmo per la qualsiasi cosa? Dov'è che hai perso quello che Dio ti ha dato? E devi ritornare sul punto e dire io grido al mio miracolo che è andato a fondo perché possa venire su. Il cieco gridò al suo miracolo. Gesù figlio di Davide abbi pietà di me! E il miracolo si avvicinò. Il miracolo era Gesù e gli ha detto cosa vuoi che io ti faccia? Che recuperi la vista. L'aveva persa. Perché se dice che recuperi la vista è perché l'aveva persa. altrimenti gli avrebbe detto dammi la vista. La Bibbia dice che io recuperi la vista. Significa che la vista l'aveva perso. Allora significa che tu hai perso qualcosa e devi gridare a Dio signore ridammi l'entusiasmo. Ridarmi la passione. Ridarmi il mio sogno. Ridarmi la visione. Signore ridarmi quello che io in qualche modo ho perso. E in modo soprannaturale. Anche se sembra che non ci sia più speranza che possa venire a galla. Io non so perché è questa parola ma credo che sia per un matrimonio in particolar modo. Che forse tu non credi più nel tuo matrimonio che possa essere restaurato. Che il tuo matrimonio possa avere il miracolo del tuo matrimonio. Il sogno e il desiderio che avevi del tuo matrimonio forse è andato a finire a fondo. Tu devi gridare al tuo matrimonio e devi dire al diavolo nel nome di Gesù. Io ti comando di lasciare il mio matrimonio. Io dichiaro nel mio matrimonio il miracolo e il potere soprannaturale dello Spirito Santo. Piuttosto che piangere. Luca capitolo 17 versetto 12. A volte sapete cosa avviene nella nostra vita? Che piuttosto che alzare la voce noi piangiamo. Ho ricordo una volta, non dico la città dove ero, con mia moglie siamo stati in questa chiesa e c'era la moglie del pastore. C'è l'intercessione questa sera. Noi siamo arrivati in quella chiesa, sottomessi, buoni, ubbidienti. Avevamo il gambiolino come i bambini che vanno a scuola, il collettino, eravamo tutti graziosi, andavamo là. Ovviamente andiamo all'intercessione. Per noi l'intercessione, noi veniamo da una scuola di intercessione col pastorelia. Non so per quanti lo conoscono. E quindi per quanti conoscono la struttura di Palermo, la chiesa è fatta tutta di travi. e quando pregavamo in quel locale sentivamo tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut mia moglie mi ha detto arriviamo là, mamma mia ci sarà un fuoco, però quando arriviamo là un pianto, signore ti prego, ti prego signore, tutti che piangevano, ho detto mamma mia c'è un funerale, c'è l'intercessione e interporsi, dove è tua moglie, vieni, vieni per Luigi, intercessione e interporsi tra una persona e un'altra, allora facciamo finta, è una bugia questa, non è la verità, che tutti e due sono litigati, non sono litigati, sono in pace, abbiamo pregato domenica, facciamo finta, allontanatevi un po', allora tutti e due sono marito e moglie, hanno una relazione ma sono divisi per un problema X, ok? Allora l'intercessore cosa fa? È il mediatore per avvicinare il marito alla moglie e la moglie al marito, la funzione dell'intercessore è quello di fare un'opera di persuasione perché il marito, la moglie scusa, si avvicina al marito, fermati, l'intercessore è quello che di fare un'opera di convincimento perché il marito si avvicini alla moglie e così l'intercessione è quello di prendere la moglie e avvicinarla al marito e il marito avvicinarla alla moglie e a volte bisogna usare i modi duri, a volte i modi teneri, a volte bisogna alzare la voce e dire tu non devi trattare così a tua moglie perché tua moglie la devi amare e la devi rispettare e a volte bisogna alzare anche la voce alla moglie e dire guarda che tuo marito non comprende che tu sei una donna, tuo marito è un uomo e quindi cosa fai? Avvicini l'uno all'altro per metterli insieme, adesso vi potete dare un bacino e vi abbracciate, dai, così fate vedere che non siete, l'avete dato il bacino? No, no, non bacino qua davanti a tutti, no, no senza mascherina siete il marito e moglie, fate vedere il bacino qua al centro avete fatto l'anniversario, noi ci giriamo, giriamoci, giriamoci la faccia vediamo? uno, due ok o fare fare questo a un furlano è il massimo fare fare questo a un furlano è un miracolo ma è un figlio obbediente allora cosa avviene tante volte? Che noi piangiamo davanti a determinate situazioni tu devi gridare al tuo miracolo e devi dire sogno vieni nuovamente fuori dall'acqua, dal fondo, visione vieni nuovamente fuori, salute vieni fuori, risorse finanziarie vieni fuori e devi dire al diavolo vai via, togli le mani dalla malattia, dal corpo, dalle finanze, dal mio matrimonio, dal mio lavoro, quello che sia ma come credente, tu ed io non ci possiamo permettere di abbandonare la visione che Dio ci ha dato, tu ed io non ci possiamo permettere che l'ascia vada al fondo e tu la lasci al fondo, perché c'è un dono che Dio ti ha dato come quel servo aveva preso in prestito l'ascia, c'è qualcosa che Dio ti ha affidato e che tu un giorno... lui gridò Signore, oh mio Signore mi è caduta l'ascia Eliseo subito è andato dove ti è caduta, indicami il posto, il punto dove ti è caduta è in modo sovrannaturale, l'uomo di Dio ha fatto venire l'ascia su così tu e io quello che ti è stato affidato, tu non puoi lasciarlo a fondo tu ed io devi chiamare lo Spirito Santo, devi farti aiutare perché tutto quello che è andato a fondo, la visione, il tuo matrimonio, la tua salute, le tue risorse finanziarie, il tuo lavoro, i tuoi sogni spirituali, li devi chiamare perché vengono fuori e non resti in a fondo, perché un giorno Dio ci chiede racconto cosa hai fatto dei sogni che io ti ho dato, cosa hai fatto dei talenti che io ti ho dato, cosa hai fatto della visione che io ti ho dato, oh Signore tutti mi vogliono uccidere, nessuno mi comprende Signore, fai come Elia, sono rimasto io solo e Dio gli dice senti caro mio, ci sono 7000 uomini che ancora non hanno piegato le ginocchia a balla e Elia attraverso una minaccia era scappato, aveva perso la visione, è come se gli cavavano gli occhi, come quando a Sansone gli hanno cavato gli occhi e il diavolo vuole cavare gli occhi dei credenti per non farti vedere quello che Dio ha preparato, per non farti vedere quello che tuo padre ha preparato per te, per farti accecare di tuoi sogni e delle visioni che Dio ti aveva dato. Cosa fece la donna cananea? Matteo capitolo 15 versetto 22 ed ecco una donna cananea, non era credente, non era giudea, era estranea al patto di Dio ed ecco questa donna cananea venne dai dintorni e si mise a gridare dicendo abbi pietà di me Signore figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone e Gesù gli ha detto che cosa mi dice a me? Io non sono venuto per i cananei, io sono venuto per i figlioli e questa donna se vi ricordate gli ha detto è vero Signore, io sono una cagnola ma anche i cagnoli mangiano dalle bricele che cadono dalla tavola del padrone e Gesù cosa fece? Gli ha detto no non è vero, la lodò, l'apprezzò. A volte sapete una cosa che la Bibbia dice che i figli delle tenebre sono più saggi e più avveduti dei figli della luce, questa donna cananea rappresentava figli delle tenebre e questa donna ha avuto la saggezza e ha detto è vero che io non faccio parte del patto, tu non sei venuto per me, io non sono una tua figlia ma è pur vero che comunque le bricele mentre tu stai mangiando cadono le bricele e io mangio dalle bricele che cadono e in quell'istante la sua figlia è stata guarita attraverso la fede di questa donna, la sapienza di questa donna. Una cosa molto bella e chiudiamo in questo, spero che vi sia bastato no per oggi? Posso continuare se volete. Cosa disse Eliseo? Butta il legno nell'acqua nel posto dove c'era l'ascia, l'ascia viene su e la Bibbia dice che Eliseo gli disse prendilo, non gli ha detto afferralo subito perché se ne va di nuovo a fondo, ma Eliseo gli ha detto prendilo, così egli stese la mano e lo presa e la stessa cosa devi fare pure tu, devi fermarti, non devi prenderlo con velocità perché se ne va di nuovo a fondo, ma nel momento in cui tu parli al tuo miracolo, parla all'ascia, al sogno, alla visione, tutto quello che hai, come ripeto matrimonio, lavoro, finanze, tutto salute, tutto quello, devi parlare al tuo miracolo che venga su e che non resti giù. Tu e Dio non siamo chiamati a vivere nella schiavitù, tu e Dio non siamo stati chiamati a vivere nella povertà, tu e Dio non siamo stati chiamati a vivere nella miseria, tu e Dio non siamo stati chiamati ad essere gli ultimi della società, tu e Dio non siamo stati chiamati a vivere matrimoni miseri, tu e Dio siamo stati chiamati come figli di Dio a nobiltà, a parlare, all'ascia che è caduta in fondo al mare, a dire ok ho sbagliato, ho commesso degli errori, mi sono confuso, ho perso la visione, mi sono fatto rubare il sogno, ma io questa sera parlo al mio sogno, parlo al mio matrimonio, parlo alla mia salute, parlo al mio lavoro che in fondo al mare, in fondo all'acqua e in modo soprannaturale, lo chiamo fuori. Io parlo, grido al mio miracolo che venga fuori e io lo prendo, io stendo cosa fece quell'uomo, quel servo, dice prendilo, così egli stese la mano e lo prese. E lo Spirito Santo, caro mio e cara mia, vuole fare cose che per gli uomini sono impossibili. Questo è tempo di soprannaturale, perché le persone laddove Gesù manifestava il soprannaturale e le persone accorrevano. E il soprannaturale non è soltanto guarire dalla lebra, ma il soprannaturale è un matrimonio restaurato, la vita di una persona cambiata, una persona che in momenti dove il mondo è in crisi, un figlio di Dio trova lavoro. Quando tutti chiudono, un figlio di Dio prospera. Questo è soprannaturale. Quando per l'uomo non c'è più niente da fare, dice qua, dice tre mesi di vita, arriva allo Spirito Santo e dice trent'anni di vita ancora. Lui è il moltiplicatore, perché per i figli non c'è morte prematura. La Bibbia dice che Abramo morì sazio di anni, visse lunga vita. E così tu devi dichiarare come figlio di Abramo che dovrai morire con anni sazi di vita. Come dire wow, ti devi stare con la pancia all'aria e me li sono goduti tutti questi anni. E' come quando ti vai a mettere al mare e ti metti wow, te li godi tutti quegli anni. Noi non siamo chiamati a morire prematuramente, noi siamo chiamati ad avere lunga vita. Noi su questa terra, ascolta, tu su questa terra devi dare fastidio al diavolo e devi vivere tanti anni per dare fastidio al diavolo su questa terra. Non mi interessa tanto di vivere perché, ma mi interessa vivere tanto per dare fastidio al diavolo. Tu non sei chiamato a vivere nella miseria, nella povertà, nel tuo matrimonio in crisi, nella precarietà. Oh, per i giovani vado a scuola, ho preso sette, ce l'ho fatta. Wow! Per un pelo. No, devi entrare per un calcio, no per un pelo. Devo prendere i lavori con un ribasso? No, no, con il rialzo devi prendere i lavori. Dice, ma sai, devo fare un appalto, devo fare un ribasso? No, le persone ti devono guardare e devono dire, non so perché, ma mi ispira fiducia, io gli do di più della migliore offerta che ho ricevuto. Questa è la mentalità del regno, questa è la mentalità dei figli di Dio. La mentalità dei figli di Dio mi deve accontentare di questo. Oh, c'è la malattia, mal di schiena, mal di questo, mi sta avvenendo la febbre, mi sta avvenendo il mal di testa. Chiudi la porta. Non farla entrare. Farla andare via. Cioè, ma come lo posso far andare via? Con la parola, dichiarazioni profetiche. Sta arrivando, oh, non c'è posto, via. Tutto occupato. pieno della presenza di Dio. Non c'è spazio per malattie. Sta arrivando povertà, non c'è spazio, mi dispiace. Come scrivono in inglese quando esaurite i posti? Sold out. Devi farti una bella maia e gli scrivi qua, sold out. Pieno. Non di canne, non di birra, non di vino, ma pieno di Spirito Santo. Sold out. Non c'è più posto. Sold out della presenza di Dio. Dice, vuole venire il peccato. Sold out, Spirito Santo pieno. La Bibbia dice che i primi apostoli erano ripieni, erano sold out della presenza di Dio. Avevano una maglia, sold out, scritta così. Pieno, esaurito, non c'è più posto dentro di me. I cristiani dobbiamo essere così. Sta arrivando un pensiero, sold out. Non c'è pensiero per il nemico. La mia mente è piena della parola di Dio e la mia mente è piena delle promesse di Dio. Sold out. Pieno. Questa è la mente del regno di Dio. Questo è il cuore dei figli di Dio. Tu devi parlare alla tua sciura e devi dire, oi, vieni fuori. In modo soprannaturale. Eliseo parlò. Il legno si simboleggia realmente soprannaturale. La parola di Dio è soprannaturale. E anche se pensi che si è affondato, non c'è più speranza, non c'è più niente da fare. È come quando Cristo Gesù è arrivato nella nostra vita. Io ti parlo per me. Le persone mi guardavano e mi dicevano, è finito. Non c'è più niente da fare per lui. Senti, ma devo vendere Maurizio, lo vendo per 50, allora c'erano le lire, 50 mila lire. Ma non vale 50 mila lire. 10, no? Non vale neanche 10 mila lire. Non vale niente. Quando Gesù mi ha incontrato, io non avevo nessun valore. Ognuno di noi, quando Cristo ci ha incontrato, non avevamo nessun valore. È il miracolo più grande che laddove tutti non avrebbero puntato niente, Cristo ha puntato la sua vita. Laddove tutti non vedevano niente, in te di buono, Cristo ha visto tutto di buono in te. Laddove per le persone non c'è speranza, questo non cambierà mai. Se tu parli un giorno farò vedere mia sorella o mia cognata, solo ed esclusivamente per testimoniare della mia vita quello che gli altri dicevano di me, dicevano non c'è più speranza che questo si riprenda, ormai è finito, questo non la smetterà mai di bere, di fumare, di combinare disastri. Dio mi stava allenando a combinare disastri perché sapeva che quando sarei arrivata a Cristo avrei combinato disastri nel regno delle tenebre. Era un allenamento che stavo facendo allora. Non è che Dio si era sbagliato, ma Dio già mi stava allenando nel mondo per combinare disastri. Cioè così appena verrà a me, verrà con la conoscenza del regno di Dio, del mio figliolo Gesù Cristo è già addestrato, allenato per fare disastri nel regno delle tenebre. Paolo era allenato e quando arrivò alla conoscenza della parola di Dio, Paolo era allenato per sconfiggere il diavolo. E se ti hanno detto che non c'è più niente da fare, Cristo ha puntato la sua vita su di te, Lui crede in te, il miracolo verrà fuori. Forse le persone ti hanno detto che non c'è niente da fare per te, non vali niente, sei una cosa inutile, non hai fatto mai niente di buono, Dio ti dice tutto il contrario, tu sei prezioso davanti a me, io ti amo, io ho un grande progetto, io ho una grande visione per la tua vita, io ho grandi sogni per te. I fratelli di Giuseppe l'avevano venduto, Giuseppe l'avevano buttato in un pozzo, ma il pozzo non ha potuto trattenere Giuseppe. Nei suoi fratelli le dichiarazioni, le minacce hanno potuto bloccare il piano di Dio, così io ti voglio dire questa sera che non c'è niente che potrà bloccare il piano di Dio nella tua vita. Una persona soltanto lo può bloccare, tu lo puoi bloccare, perché tu sei libero agente morale, tu puoi decidere e basta. Ma il diavolo nei figli di Dio non ha parola. Il diavolo nella tua vita non ha parola. Quello che ha parola su di te è lo Spirito Santo, Cristo, il Padre e tu stesso. Sela. E qualunque sia la tua condizione che stai attraversando, tu devi iniziare a gridare. Al tuo miracolo che venga fuori, devi dire il diavolo, io ti comando ora, via, fuori dai miei pensieri, fuori dal mia casa, fuori dal mio matrimonio, fuori dalla mia azienda, fuori dalle mie finanze, fuori dalla vita dei miei figli, fuori dalla vita di mia moglie, di mio marito. Tu devi ordinare che l'illegale esca dalla tua vita e della tua casa, dalla tua mente e devi permettere all'illegalità che è la parola di Dio e Cristo Gesù di governare la tua vita. Devi dire al miracolo vieni fuori. Se io ho perso, è caduta, forse è rimasta per un paio di tempo, forse un anno, forse due anni, forse tre anni, forse cinque anni, forse dieci anni in fondo all'acqua, ma è sempre là e tu puoi chiamare nel posto dove ti sei fermato, dove ti è caduta l'ascia, tu puoi andare là e dire ok, da là io ricomincio, richiamo il mio miracolo che venga fuori, tu lo puoi fare. Hai lo Spirito Santo, hai la parola che ti può incoraggiare, è lo Spirito Santo che dice wow, io sono con te, è lo Spirito Santo che ti sosterrà, è lo Spirito Santo Santo che ti ispirerà, sarà la tua forza, ma tu non devi vivere in una condizione di miseria. No, 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 no. Diggielo, diavolo tu mi hai preso in giro tanti anni, tu mi hai preso in giro per tanto tempo, è arrivata il tuo giorno di scadenza, come quando scade un assegno e deve essere pagato, è arrivato il giorno di scadenza per il diavolo, devi dire al diavolo, è arrivato il giorno della scadenza, è arrivata l'ora della scadenza della tua vita e tu devi uscire dalle mie, da tutto quello qualunque sia il tuo problema, devi dire al diavolo è arrivato il tuo giorno di scadenza. Cristo ti vuole aprire gli occhi, lo Spirito Santo ti vuole aprire gli occhi e ti vuole dire vieni fuori, riemergi, perché quello che io ho preparato per te è molto più grande di quello che tu pensi e di quello che tu immagini. Amen? Chiama al tuo mila, dice guarda il fiume, guarda il fiume, guarda l'ascia dove è caduto, dove ti sei fermato, qual è stata la circostanza che ti ha bloccato, qual è stata la parola che ti ha bloccato, qual è stata la situazione che ti ha bloccato, qual è stato l'ambiente che ti ha bloccato, cosa è stato, ritorna là e dici fuori. Io non posso permettere che il dono, non posso permettere che quello che Dio ha preparato stia in fondo all'acqua, ma deve venire fuori e io lo devo chiamare fuori. Lo Spirito Santo è da parte mia, Dio è dalla mia parte, la parola è dalla mia parte, ma so che c'è un combattimento, c'è qualcuno che mi vuole ingannare perché il mio miracolo stia sempre in fondo all'acqua. Qualunque sia il miracolo, io non so qual è il miracolo che tu stai aspettando, qual è il dono che hai buttato là, basta, non ce la faccio più, anche io ho fatto questo errore, anche io nei momenti di stanchezza, di tensione, di difficoltà, di solitudine ho detto basta, non voglio, basta, me ne ritorno a Palermo, basta, non faccio più questo, basta, ma sono dovuto ritornare sui miei passi e ridire sul posto, ricomincio nuovamente da qua. Sottometto la mia carne, la mia volontà, la mia ragione, comunque sia, la mia dignità, ma io ricomincio da qua e voglio andare avanti. E tu devi parlare al tuo miracolo, devi parlare all'ascia che è caduta in fondo e devi dire riemerci. Si sono tanti che hanno attraversato momenti di scoraggiamento, che hanno sotterrato doni, hanno sotterrato talenti, hanno lasciato perdere l'entusiasmo, hanno perso l'entusiasmo, la passione per Gesù, la passione per la parola, non si legge più, non si entusiasma più con la parola, tanti hanno perso la passione, tanti nella Chiesa hanno perso l'amore, hanno perso la visione, si fanno le cose per abitudine, perché è giusto farlo. Cristo non ha mai perso la passione per te, lui non ha mai perso la passione per vedere l'umanità salvata, lui è stato disposto ad andare su quella croce, anche se sarebbe morto per una sola persona, ma lui con passione è andato su quella croce, lui con zelo è andato su quella croce, lui sul Getsemane ha detto padre, è doloroso per me, è faticoso per me tutto questo, se tu vuoi, se puoi, signore se la tua volontà allontana da me questo calice, quello che io domani dovrò soffrire, ma Gesù disse malgrado ciò signore non sia fatta la mia volontà, ma bensì la tua volontà. Lui non perse la passione sul Getsemane e a volte tu ti sentirai schiacciato, ti sentirai frustrato, ti sentirai abbattuto, hai perso la passione, perché le circostanze, le situazioni ti hanno appesantito, ma non devi fare la tua volontà, tu sei chiamato a fare la volontà del Padre, noi siamo chiamati a fare la volontà del Padre nostro e io questa sera voglio pregare per tutte quelle persone che hanno perso la passione, passione solo, tutte quelle persone che hanno perso la passione per Gesù, per la parola, per il servizio, per evangelizzare, per la salvezza delle persone. Se quando sei venuto alla salvezza dici oh deve evangelizzare questo, devo parlare a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli e devo parlare ai miei compagni, devo parlare e poi piano piano, piano piano, non hai visto frutto, le circostanze negative, forse hai pregato per determinate cose e non hai avuto risposta e il diavolo ti ha ingannato e ti ha rubato la passione. Se sei stato derubato dalla passione esci dal tuo posto questa sera e vieni qua. Lo Spirito Santo vuole incontrarti per darti una nuova passione, per darti passione. Gesù su quella croce andò con passione, Stefano mentre era lapidato non ha perso la passione, ha detto padre perdona loro perché non si stanno rendendo conto quello che stanno facendo. Stefano mentre veniva lapidato non ha detto oh pezzi di disgraziati che non siete altro, voi non sapete che io sono, io sono Stefano, voi non dovete farmi queste cose, se no Stefano mentre era lapidato disse padre perdona loro perché non sanno quello che fanno e la Bibbia dice che vide i cieli aperti e il Cristo, il Re del Re, Signore dei Signori, seduto alla destra del Padre, non persa la passione nei momenti di difficoltà. E Dio sta chiamando il suo popolo, i suoi figli a non perdere la passione nei momenti di difficoltà. Gesù ha insegnato nel mondo avrete tribolazioni, non avete nel mondo l'ipergrazia, nel mondo non avete tutto facile, nel mondo avrete tribolazioni, ma Gesù disse fatevi animo, wow, animo, wow. Come dire ci sono tribolazioni, ci sono difficoltà, piuttosto che guardare le difficoltà, le tribolazioni, e dire no, Signore, ma perché? Io sono un figlio tuo, Signore, ma perché sto attraversando tutto questo, Signore? Perché, Signore, mi trovo in questo, liberami, Signore? Tu devi dire, wow, l'Apostolo Pietro diceva quando ti trovi in prove di vario genere, rallegrati, wow, Giovanna mia, quanto difficoltà ci sono, wow. Cammini sopra le difficoltà, cavalchi sopra le difficoltà, mi faccio i muscoli. I muscoli non te li fai quando ti guardi un film, sei rilassato, e se poi ti metti accanto a me, se tu non hai mai dormito, ti faccio dormire io guardando un film. Ma i muscoli te li fai quando vedi difficoltà e ti ricordi delle promesse, che la parola di Dio dice, quando vi trovate in prove di vario genere, non vi lasciate disorientare dalle svariate prove che sono in atto, in mezzo a voi, come se vi accadesse qualcosa di strano. ma rallegratevi, direi, wow, mamma mia che trampolino di lancio. Sapete cosa fanno quelli che sono nei trampolini? A volte vedo, vedevo, non ho il tempo di guardare la televisione, mi ricordo vedevo quelli che facevano così, si mettevano in qualcosa, come si chiama, il trampolino per andare in piscina, in acqua, e si mettevano là, prima guardavano il punto, dicevano, facevano così, guardavano all'altezza, guardavano e iniziavano a camminare, poi arrivano là, così devi fare pure tu quando ci sono le difficoltà e le prove. Non devi guardare giù, devi fissare l'obiettivo, quello è il punto. Prova, difficoltà, wow, mamma mia questa difficoltà, il medico mi ha detto che sto male, wow, non ho soldi per fare l'attack, wow, dice, mia moglie non mi capisce, wow, stai prendendo forza, ti inizi a andare a fare così, dice, wow, dice, il pastore non mi comprende, wow, inizia a guardare l'obiettivo, intanto che arrivi là, e quando arrivi su cosa? Mo leggi, fai uno, due, tre, quattro caprioli, e poi va a finire in acqua tu. Questo è il cammino del cristiano, il cammino del cristiano è dire, oh, sarà tutto bene, oh, sarà tutto felice, oh, sarà tutto a favore mio. Gesù disse, nel mondo avrete difficoltà, nel mondo avrete tribolazioni, ma sta dicendo Gesù, fatevi animo, vuol dire, wow, mamma mia, che bella questa difficoltà, questo problema, wow, è come dire, le persone dicono, ma come mai sei allegro? Perché ho un sacco di difficoltà, dice, ma, mi va tutto bene, per favore qualche difficoltà, fammi qualche problema, fammi qualche problema, perché mi alleno, un trampolino di lancio, quanti problemi, quanta difficoltà, io sono cresciuto in mezzo alle difficoltà, e quando non ci sono difficoltà, mi annoi, mi viene il sogno, a volte grazie a Dio, per i fratelli, che mi causano difficoltà, sono cresciuto con loro, con la pazienza, con la gentilezza, ti voglio bene, sono cresciuto con mia moglie, mia moglie ha fatto crescere tantissimo, perché non comprendevo la donna, e pensavo che la donna fosse come l'uomo, ho dovuto imparare, è strana, lei mi diceva, anche tu sei strano, e ci siamo scoperti di essere strani, ma dopo tanti anni però, ma questo ci ha aiutato a crescere, anche noi avevamo buttato l'asciura, abbiamo detto, vabbè, lasciala la in fondo a mano, lasciala, ma un bel giorno abbiamo fatto la decisione, siamo ritornati sul punto, e abbiamo detto, Ascia, vieni fuori, gioia nel matrimonio, vieni fuori, gioia nella relazione, vieni fuori, patto, vieni fuori, in qualche modo, l'ascia era uscito fuori, il manico, perché di tanto in tanto, non avevamo revisionato il manico, se l'ascia era ben serrata col manico, allora ci siamo fermati, siamo ritornati sul punto di partenza, e abbiamo detto, ascia, in modo soprannaturale, vieni fuori, non abbiamo buttato il legno, ma abbiamo buttato la parola, che è più pesante del legno, è più potente del legno, e abbiamo permesso all'ascia di venire fuori, e l'abbiamo preso, così tu questa sera puoi riprendere la passione della tua vita, se lo vuoi, altrimenti puoi stare come sei, io mi sono entusiasmato stasera, se non fosse che vi amo tanto, io continuerei a predicare, me ne andrei a piazza Primo Maggio, grazie a tutti, Grazie a tutti.